Musica Terza edizione della Tarantella del Carnevale qui all'Editorium Parco della Musica e sono in compagnia dell'interprete, dell'erede, del senatore della Tarantella di Montemarano, Achille D'Agnese che adesso ci spiegherà un po', ci parli di questa Tarantella che è favolosa? Allora, prima di tutto vi ringrazio per questa intervista, sono felice di far capire un po' che cos'è la Tarantella montemaranese ed non è tanto facile, non è tanto facile perché per capirla bisogna venire a Montemarano, bisogna essere coinvolti da questa musica travolgente, coinvolgente perché è una ritmica un po' diversa dalle altre Tarantelle, è sincopata, quindi è una ritmica che ti trascina questa Tarantella la si può assaggiare, assaporare ed essere coinvolto nel periodo di Carnevale e quindi questo è il momento, il periodo adatto per avere tutti quanti coloro che mi ascoltano l'invito di venire a conoscerla a Montemarano un piccolo paesello, come posso dire un fazzoletto di terra dove è l'unica Tarantella, anche nei paesi reemitrofi si fanno altri tipi di Carnevale, siamo noi che manteniamo ancora questa cultura e questa eredità e io purtroppo siccome sono un po' il più anziano mi hanno passato il testimone e mantengo ancora questa tradizione è un bellissimo testimone comunque, devo dire ne sono lieto perché proprio in questo anno io faccio 50 anni di mestiere, diciamo di Tarantella perché ho iniziato a 13 anni, quindi proprio quest'anno sono 50 anni che mi prodico a questa bellissima Tarantella Allora, io parlo un po', io ho visto la parata, quindi nella Tarantella ci sono due capi ballo, giusto? Capo di ballo, no, possono essere tanti, due perché per fare coppie, però sempre in due due, quattro, sei, otto, dieci in coppie, dipende da quanti ballerini ci stanno cioè ogni coppia può servire dieci ballerini, quindi se siamo 50 sono dieci capo di ballo e hanno una grossa responsabilità, hanno sia la responsabilità, come si suol dire, civile nel senso che se succede qualcosa loro sono i responsabili e sia una responsabilità verso coloro che stanno in costume perché devono mantenere l'ordine non a caso hanno il bastone che è sintomatico, è il comando Anche loro sono in costume, costume è Puccinella o sbaglio? Non è, è simile al Puccinella, quello che cambia è il cappello, il Puccinella ce l'ha curvato in avanti invece il cappello del caparaballo di Montemarano è dritto verso l'alto, quindi è un poco diverso il cappello però è una figura molto 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 importante e chi fa il caparaballo è sintomo di rispetto è una persona per bene, una persona che merita, rispetta e quando parla, parla Poi sempre durante appunto la parata ho visto che si balla con le nacchere ma è tipico di Montemarano oppure non so, prende qualche... È tipico, tanto che quando ci stanno delle feste come matrimoni, battesimi, delle feste in famiglia non mettono prima la busta nella borsetta ma mettono prima le nacchere e poi mettono la busta perché sanno che in quell'occasione la tarantella non manca Tarantella che si fa solo per il carnevale o anche per altre occasioni? In tutte le occasioni, in tutte le occasioni, chiaramente battesimi, matrimoni, compleanni non può mancare e anche quando si fanno le cene, cioè è la musica che accomuna il povero e il ricco è la musica che non fa città sociali. Durante l'anno l'avvocato rispetto al popolino si mette così in guardia Invece al carnevale l'avvocato balla con il contadino, il medico balla con il... Anzi, come si sa, sono musiche popolari quindi i contadini ballano meglio delle persone e quindi loro si sentono talmente bene quando ballano con loro che non c'è ceto sociale al carnevale Non c'è ceto sociale, non c'è età? Sì, hai ragione, e non c'è malizia, anche se qualche volta nella mascherata uno ti tocca non c'è la malizia, c'è il piacere di stare insieme, quindi non bisogna vederla come una cosa maliziosa se ti tocca la spalla o ti tocca i capelli, no, è sintomo di allegria e di coinvolgimento Ripetiamo ai nostri amici perché devono venire a Montemarano non solo per il carnevale ma anche a visitare la cittadina e dove possono avere delle notizie su Montemarano e su Carnevale? Avete una pagina Facebook? Ci dia delle notizie? Sì, ci sono molti, sia il Comune e sia le associazioni hanno una pagina Facebook e io invito a Montemarano perché tutti quelli che vengono non sono degli spettatori ma sono protagonisti quindi anche la mia pagina dove orchestra kill che parla un poco di tutti in ogni tipo di manifestazione voi sapete se avete la possibilità di venirmi ad ascoltare e ballare alla tarantella e Montemarano è molto ospitale perché se venite a Montemarano con una mascherina, con un costume voi fate parte dello spettacolo, non è che fate come a Viareggio, come a Putignano che guardate, no voi siete i protagonisti ed è molto bello e potete assaporare questa bella tarantella Montemaranese Grazie Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.